mamma mia c'è anche in presenza arrivi sempre nel momento meno opportuno ragazze quando è arrivato sto pacco che io ero di là un attimino in bagno arriva un pacco ciavolo di pacchi capito ragazzi ma chi l'ha mandato questo chi l'ha mandato la mia ricca vuole l'oretano la zizzo che già mi ha scritto mi dice consegnato per chi so io subito un isciro bagno ricussa capito zizzo fatti raffare i dobbio allora zizzo ti do un altro indirizzo dove devi ricapitare i pacchi sono vabbè apriamolo vediamo che c'è ragazzi vediamo non ti tocchi i diritti ma guarda come sono attente guarda come sono attente no lo puoi portare lo butti tu lo scappi no c'è da bere più che altro tu non bevi capito guarda c'è l'oretano ha messo a pronta io ormai sono specializzato ma tu stai però giurano a avere stu coso eh è morto è morto è morto Leonardo c'è scritto chi è Leonardo da Vinci da Vinci guarda ragazzi stoppa un attimo cosa c'è cosa c'è cosa c'è ma andrà vai allora da lì vediamo vediamo cominciamo con questo pacco ma lo sai sarà il pacco di Natale amò ci sarà qualcosa per il mio compleanno no questo lo lasciamo a loro sentite vediamo ah questi sono per te ah mi incantavo direttamente in gattoni a stavolta capito grazie allora questo va a te eh 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 amò Loretana ma sono i miei chiedi Loretana no lasciali poi li continuiamo Loretana eh eh vabbè ragazzi a tra poco a tra poco a tra poco no lasciali poi li continuiamo no lasciali poi li continuiamo